Quando avevo sette anni, mi è stato diagnosticato linfoma tipo Burkitt, quarto stadio. I medici dissero ai miei genitori che la mia aspettativa di vita era prossima, vicina allo zero. Quando avevo la diagnosi di cui avevo bisogno, la somatostatina, non era coperta dal servizio sanitario nazionale ed il suo prezzo era estremamente alto. I could have friends who were perfectly healthy, then four months later they were dead. L'Azienda farmaceutica che all'epoca la produceva, decisero di fornirla gratuitamente, in modo compassionevole, per questo bimbo, fino alla maggiore età. Alabama in particolare è disproportionately affettuato con l'HIV. Poverty, stigma, lack of education attainment and lack of medical resources. You set up a recipe for people to die. Quando ho compiuto 18 anni, non avevo più motivo di prendere questi medicinali, completamente guarito e senza più questi problemi del passato. Cinque anni fa ho notato un rigonfiamento nella parte superiore della guancia. Sono venuto a conoscenza del ritorno del tumore. Siamo venuti a conoscenza che la società ICMA attualmente produce la somatostatina in Italia. Per questo mio papà ha deciso di contattarli. Il nostro projectile di intagini è dei bisogni di attività di attività. Il nostro projectile di attività è di impostare il servizio di attività per l'agglier. Il nostro projectile di attività le casse è di imposte per le attività di attività di attività, per l'attività. e per gli studenti che facciano le nostre persone che facciano le nostre persone. Per aver avuto la somatostatina gratis da parte dell'azienda ICMA tramite una ONLUS, una società senza fini di lucro, è stato fondamentale per il prosieguo della mia vita. L'anno scorso l'Hitmo era about to launch a una nuova medicina generica che si chiamano l'Italivir. Si chiamano 9 advogati di HIV all'interno del paese. Si chiamano la comunità. La scuola di S.A.B. è stata attraversata la nostra medicina. La scuola di S.A.B. è stata attraversata la nostra medicina, è stata attraversata la nostra medicina, Non c'è un problema che si chiama la nostra medicina. La scuola di introduzione una medicina generica per l'HIV è semplice, più aiutare più aiutare più persone a un costo. La scuola di S.A.B. è stata aiutare più aiutare. Grazie a loro, ICMA, sono molto ottimista riguardo al mio futuro, riguardo alla mia vita che verrà. È stato un atto di rivoluzionaria compassione. Grazie a tutti.